Politiche energetiche, lavoro, immigrazione, i temi affrontati dai candidati di Italia Sovrana e Popolare, il partito politico che nelle prossime elezioni si propone come formazione antisistema e contro il governo Draghi. Io sono un patriota e non mi vergogna utilizzare questo termine, che è un termine che per me è molto importante. Io ritengo che il nostro paese deve tornare ad essere sovrano, deve tornare ad avere una politica sovrana come quella che stanno avendo tanti paesi in Europa, perché a noi ci dicono la Russia isolata, la Russia oramai è in ginocchio, ma noi non ci rendiamo conto di quello che viene detto. Io guardo la Turchia, guardo all'India, guardo alla Cina, guardo a tutti i paesi africani, guardo al Brasile, guardo all'Argentina, che sono paesi che si stanno smarcando completamente dalla folle politica, diciamo russofobica, diciamo occidentocentrica, neocolonialista del cosiddetto occidente allargato. Il fotoreporter Giorgio Bianchi è tra i candidati in Veneto in un collegio plurinominale alla Camera. Molti l'hanno definito putiniano, ma lui risponde così. Noi diciamo semplicemente torniamo a fare una politica sovrana come quella che abbiamo avuto in passato, perché noi abbiamo avuto un passato che con tante contraddizioni, pur nell'ambito della Nato, pur nell'ambito di determinate alleanze ed equilibri, ci siamo smarcati e abbiamo fatto le nostre politiche. Ricordo Andreotti negli anni 60 che garantiva rapporti sani con l'Unione Sovietica, tant'è che abbiamo addirittura impiantato una fabbrica a Togliatti, anzi abbiamo fondato di fatto, abbiamo contribuito a fondare una città nell'Unione Sovietica. Tre candidati in Veneto per l'Italia sovrana e popolare, anche l'attrice Gina Lollobrigi da 95 anni, che recentemente è stata ricoverata in ospedale dopo la rottura del femore. Tra i punti nel programma anche la questione immigrazione. Io sono contrario a qualsiasi forma di immigrazionismo coatto, perché chiaramente in un paese già in difficoltà noi andiamo ad aggiungere ulteriori tensioni all'interno della società. Non possiamo garantire posti di lavoro e assistenza sanitaria decente ai nostri cittadini. Figuriamoci se possiamo continuare a gestire una situazione di questo tipo. Io l'altro giorno ho incontrato una storia paradossale di Fabio Messina, che durante la pandemia era partito per lavoro e è ritornato indietro ed è stato bloccato a Villa San Giovanni, quindi sullo stretto di Messina, perché non aveva il Super Green Pass e non poteva tornare a casa perché non era in regola. E poi abbiamo decine, centinaia di immigrati che arrivano e sbarcano tranquillamente sulle nostre coste.